Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione dei Saggi Online della Scuola di Musica del Garda. Stasera sono di scena due allievi del maestro Vladi Bianchini, la classe di pianoforte che si esibisce oggi e vi presenterà appunto questo momento musicale. Quindi raccoglietevi, preparatevi, tutto orecchi e ascoltiamo con grande attenzione e con grande piacere all'ascolto, sempre con la gioia di far musica. Grazie e buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.